Palazzo Lascaris ha ospitato il convegno Navigare fra le stelle per spiegare le finalità della missione spaziale Gaia. Il convegno è stato organizzato dall'Osservatorio Astrofisico di Torino, parte dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e la Società Astronomica Italiana con il sostegno del Consiglio regionale. La missione permetterà di creare una mappa tridimensionale di tutta la galassia. Il scopo principale della missione è misurare un miliardo di stelle della nostra galassia, i loro moti e le loro distanze in maniera da poter capire l'evoluzione della nostra galassia anche in un contesto cosmologico. Ma in questa miriade di oggetti stellari che misureremo, uno degli obiettivi principali è di scoprire vicino a noi tantissimi pianeti extrasolari. Gaia manderà a Terra una quantità spaventosa di dati mai gestita finora. Per poter processare tutti questi dati un consorzio europeo ha costruito ben sei centri per gestire tutta l'elaborazione di questi dati. Uno di questi centri sarà a Torino e Altec come industria aerospaziale piemontese si è affiancata al team scientifico dell'osservatorio contribuendo con lo sviluppo di tutta l'infrastruttura hardware e software necessaria a gestire i dati e mettere a disposizione le risorse per l'analisi di questi dati da parte del gruppo scientifico.